Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 in apertura, la cronaca sgominata alla gang che si era specializzata nei furti di impianti fotovoltaici. Sette persone arrestate questa mattina nell'ambito di un'operazione condotta dai carabinieri di Lanciano e Foggia. Il servizio. 15 ordini di custodia cautelare di cui 7 eseguiti e 30 indagati sono i numeri di un'inchiesta coordinata dalla procura di Lanciano che ha condotto all'operazione dei carabinieri in Abruzzo e Puglia denominata cavallo rovesciato. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Lanciano Massimo Canosa su richiesta del PM Mirvana di Serio. Sono almeno 7 i furti di cui la banda con sede prevalente nel Foggiano tra Sansevero e Torre Maggiore è accusata a partire dal dicembre 2016. Il materiale recuperato tra mille pannelli solari, furgoni, grui e materiale elettrico ha un valore stimato dagli investigatori in circa mezzo milione di euro. I furti hanno interessato vari comuni delle province di Chieti, Campobasso e Foggia. La banda specializzata era composta principalmente da persone originarie del Marocco, quasi tutte con regolare permesso di soggiorno o di seconda generazione di immigrati e da romeni. Dapprima si accordavano su chi dovesse compiere i furti e poi si spartivano i proventi. Dal Foggiano agivano facendo riferimento a dei basisti locali. In Val di Sangro erano in due, Sliman Marussi, 36 anni, marocchino, residente a Bomba, finito in carcere a Lanciano. L'altro è Piero Caporale, 34 anni, di caso, rifinito ai domiciliari a Selva di Altino. Ai domiciliari sono finiti anche gli altri 5 arrestati, rumeni e marocchini, residenti nel Foggiano. L'area furtiva veniva imballata e imbarcata nei porti di Napoli e Genova per il Marocco e la Romania, paesi di origine dei malviventi. Il blitz è iniziato alle 3 del mattino, ha visto in campo 70 carabinieri della Compagnia di Lanciano, con l'ausilio dei carabinieri di San Severo, Cerignola, Eboli e Crema. L'operazione è stata coordinata dal capitano Vincenzo Orlando, neocomandante della Compagnia Carabinieri di Lanciano, e dal tenente Massimo Canale, comandante del NORM. I carabinieri proseguono l'attività alla ricerca dei latitanti, alcuni di questi potrebbero essere rientrati nei loro paesi di origine, sia in Nordafrica che in Romania, paesi dove si registra un boom del fotovoltaico nel mercato nero. In l'arco dei sei mesi che abbiamo indagato, diciamo che questi personaggi ruotavano molto spesso nella zona, per cui riteniamo che in queste 30 persone ci siano quasi tutti i soggetti che hanno commesso i furti nelle nostre zone. Chiaramente il fenomeno è molto più ampio, interessa sicuramente anche altre regioni e altri posti, e comunque l'area pugliese è quasi sempre quella della provenienza di queste persone. Questa mattina a Pescara, presieduta dal prefetto Francesco Provolo, si è tenuta la seduta annuale dell'assemblea plenaria della conferenza provinciale, con forze dell'ordine e amministratori locali, per fare il punto della situazione in particolare in tema di ordine pubblico. Il servizio di Paolo Renzetti Abbiamo alcuni edifici scolastici su cui c'è la massima attenzione, dove c'è necessità di un intervento da parte dell'ente locale e da parte dell'ente provinciale. Abbiamo i nomi, abbiamo anche sentito i tecnici, ci hanno dato un programma per effettuare determinati e specifici lavori. Questo programma verrà attenzionato anche da un tavolo operativo che è stato costituito in prefettura, per cercare di seguire e di stimolare che si faccia presto. Il dirigente del compartimento della Polizia Postale stamattina è stata chiarissima, è un problema attuale, ormai i giovani riescono ad avere questa attenzione sul mondo della rete che non dà soltanto delle cose positive, anzi molte sono negative. Abbiamo deciso di formare un altro tipo di esperienza, incontrare i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti dei docenti, i presidi e i rappresentanti degli studenti qui in prefettura, per insieme al dirigente del compartimento della Polizia Postale, per cercare di confrontarci, capire bene come si opera in famiglia, capire bene quale consigli opportuno dare alle famiglie perché siano più attenti a cosa fanno i ragazzi, cercare di capire gli studenti che ovviamente rappresentano gli altri studenti, che modo si vogliono confrontare con i più deboli, con quegli studenti che hanno più necessità di essere aiutati. Poi ci sarà un importante progetto che riguarda la videosorveglianza nell'area metropolitana di Pescara. Questo è un programma che fa parte di un progetto di Pescara Sicura, che riguarda un perimetro che le forze di polizia hanno previsto, su cui allestire un sistema di videosorveglianza che comprende più comuni. Non essendo un unico comune, quindi ci necessita una procedura amministrativa che convolga più enti. Spero che questo progetto venga presentato al prefetto al più presto, in modo da chiedere i finanziamenti a chi di dovere, a chi già si è impegnato a dare. Per esempio stamattina c'era il Presidente della Camera di Commercio, che ha confermato di voler partecipare finanziariamente a questi progetti sulla sicurezza della città e della provincia. È morto stamani all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti il vice sindaco di Lanciano, Pino Valente. Da circa quattro mesi era malato e combatteva contro una forma molto grave di infezione, il servizio. Il suo sogno più grande era diventare sindaco di Lanciano, la sua città, e aveva fretta, quella fretta di chi sapeva bene che la vita vale la pena di essere vissuta a pieno ogni giorno, come fosse l'ultimo. Pino Valente, 47 anni, fondatore e leader della lista civica di maggioranza Progetto Lanciano, è morto all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove era ricoverato da sabato scorso. Ci era tornato dopo aver iniziato un lungo percorso di abilitativo, a seguito di una malattia che lo colpì ai primi di giugno. Una febbre altissima e improvvisa, sommata ad una salute cagionevole già compromessa da precedenti problemi e con i quali aveva imparato a convivere dall'età di 16 anni. Poi le complicanze, che hanno assalito un fisico già debilitato, e la sua volontà di lottatore e maidomo, davvero guerriero freintano, come amava a definirsi, è stata sopraffatta da una polmonite che non gli ha lasciato scampo. È una città ancora addobbata a festa, quella che attende il ritorno del suo vicesindaco al secondo mandato. Dimesso in estate per motivi prettamente burocratici, che richiedevano un vicesindaco presente, in favore del suo braccio destro, Giacinto Verne, Valente aveva conservato le deleghe come assessori al bilancio ai lavori pubblici. Lavorava anche dal letto d'ospedale, si informava quotidianamente dell'amministrazione della città e diceva ai suoi cosa fare, indicando le priorità da seguire. Fino a sabato scorso, poi tutto è precipitato. Un coma farmacologico, prima di un piccolo intervento, che aveva già affrontato ad Ancona durante la fase di riabilitazione in un istituto marchigiano. Infine la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere, postata dal fratello Roberto su Facebook. Ciao fratello, ora vola sulla tua Lanciano, un giorno ci riabbracceremo. La camera ardente è stata allestita nella casa di conversazione al pianoterra di Palazzo di Città, con apertura alle ore 19. I funerali saranno celebrati mercoledì 27 settembre alle 15.30 nella cattedrale della Madonna del Ponte. Per il giorno delle sequie l'amministrazione comunale di Lanciano ha indetto il lutto cittadino. Valente lascia la moglie Filomena e il figlio Samuele. Indagati 120 romani per aver presentato false dichiarazioni di residenza per avere contributi. A riportarlo il quotidiano il messaggero che sostanzialmente smentisce anche la denuncia del sindaco di Amatrice Pirozzi sui soldi degli SMS, il servizio di Daniela Rosone. 120 romani indagati nel terremoto di Amatrice residente false per incassare i contributi. L'ennesima pagina triste di questo teatro la scrive oggi il messaggero con un articolo a firma di Italo Carmignani. Mentre la procura di Rieti vuole vederci chiaro sui 33 milioni di euro donati dagli italiani attraverso gli SMS solidali, dopo la denuncia del sindaco Sergio Pirozzi, escono nuovi particolari sulla vicenda. 28 milioni di euro sono stati già assegnati in realtà in base a 18 progetti presentati, 5 milioni sono ancora da assegnare. L'articolo sostanzialmente smentisce il sindaco di Amatrice. È vero, nessun fondo è arrivato nelle casse di Amatrice da cumuli, ma la destinazione dei soldi fu decisa lo scorso 5 luglio in una riunione in cui era stato invitato anche Pirozzi, scrive il quotidiano, con protezione civile, sindaci, garanti e governatori del cratere. 18 milioni nelle Marche, 3,6 in Umbria, 3,5 nel Lazio, 3 milioni in Abruzzo, totale insomma 28 milioni. Nessun milione di euro, come già aveva detto la protezione civile nazionale, è sparito. Obiettivi dei progetti? Scuole e beni culturali. Pirozzi intanto ieri è stato sentito dalla procura di Rieti come persona informata dei fatti. Tra i progetti finanziati c'è anche una scuola di Colle Vecchio a Rieti e un pezzo di pista ciclabile a Civitanova Marche. Questo in particolare aveva fatto infuriare il primo cittadino di Amatrice, la pista ciclabile. E mentre tutto passa, i soliti furbi, indagati appunto per aver presentato residenze false e incassare i contributi del terremoto, accadde anche un anno fa, quando una quindicina di persone furono scoperte e scritte nel registro degli indagati. Le stesse che gridano governo ladro, anche questo però è rubare. Pulire e bonificare l'area dove si trovava l'hotel Rigopiano distrutto dalla valanga killer che è costata la vita a 29 persone e l'appello lanciato alle istituzioni da Nicola Colangeli, papà di una delle vittime del disastro dello scorso 18 gennaio. A otto mesi dalla valanga killer che distrusse l'hotel Rigopiano di Farindola, causando la morte di 29 persone, il dolore è ancora grande fra i parenti delle vittime. Un dolore che resterà per sempre e che si rinnova giorno dopo giorno in attesa di capire cosa accadde quel maledetto 18 gennaio e se è per colpa di qualcuno. E mentre si aspetta che le istituzioni inizino la pulizia dell'area attorno all'hotel, noi ascoltiamo il dolore del papà di una delle persone tragicamente scomparse. L'inverno sta arrivando, qua tra poco riscenderà la nera, qua riscenderà la valanga prima di come è riscesa, qua farà tutto un macello. Chiediamo alle forze politiche, alla regione, al governo, a tutti quanti, di far bonificare, di pulire tutto. Di ridarci le cose preziose dei nostri figli. Vogliamo fare tutto silenzioso, però siamo stanchi, siamo stufi di questa beffa. Ci hanno preso che le nostre vittime sono di serie B o che si vergognassero tutti. All'ospedale di Ortona è inaugurata la clinica dermatologica, una nuova unità operativa con attrezzature che pongono il centro della provincia di Chiede all'avanguardia a livello tecnologico. Jacopo Forcella. Inaugurata all'ospedale di Ortona la clinica dermatologica, la nuova unità operativa è attiva già da qualche settimana ed è ubicata nell'area dell'ex pediatria, interamente ristrutturata e resa funzionale alle esigenze della dermatologia che nel 2016 ha contato 32.000 prestazioni ambulatoriali. Sono le attrezzature a porre Ortona all'avanguardia, sia per la tipologia, sia per il livello di tecnologia espresso, a partire dal total body scanning, esclusiva assoluta per l'Abruzzo, impiegato per la rilevazione digitale dell'insorgenza di nuovi nei su tutto il corpo. Accanto a questo due postazioni per epiluminescenza digitale, una postazione per la visualizzazione dei capillari per la diagnosi delle malattie del connettivo, un apparecchio per la terapia fotodinamica, impiegata per la distruzione delle lesioni tumorali superficiali e per il trattamento delle patologie infiammatorie, un apparecchio di ultima generazione per la distruzione di lesioni tumorali cutanee, favorendo la penetrazione intracellulare di un farmaco chemioterapico attraverso la somministrazione di impulsi elettrici. Si è detto soddisfatto del modello Ortona anche l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. È un reparto che ha già aperto, quindi inauguriamo dopo che da dieci giorni già ci sono le esigenze e i servizi, è un'ulteriore eccellenza, è dotato di strumentazioni uniche nel suo genere e ulteriormente la prova che abbiamo investito su un presidio che è diventato un vero e proprio gioiello. Siamo al quarto investimento di qualità, l'università ormai è diventata un'università a guida prevalentemente universitaria, ci sono diverse cliniche e i servizi erogati oggi al cittadino sono di una qualità talmente alta da essere il presidio o tra i presidi a più forte mobilità attiva ad Abruzzo. Uno sciopero di 24 ore indetto per venerdì 29 settembre da due sigle sindacali potrà comportare la mancata effettuazione dei servizi compresi nelle fasce dalle ore mezzanotte fino alle 5.30, dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle ore 24. Lo rende noto la tua SPA spiegando che ad esempio un servizio in partenza negli orari non compresi dallo sciopero ma con arrivo ricadente nell'orario dello sciopero stesso potrebbe non essere garantito. Inoltre a causa delle modalità dell'astenzione lavorativa la ripresa del servizio subito dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata per alcune corse in partenza nelle fasce orarie da garantire. Tua SPA si scusa sin da ora per eventuali disagi che dovessero verificarsi e assicura la massima assistenza alla clientela. Nell'ultimo consiglio comunale a Teramo sono state ritirate forzatamente per assenza di numeri favorevoli due importanti delibere presentate dal sindaco Maurizio Brucchi un segnale non bello per il primo cittadino che sembra non poter più contare su una maggioranza politica. Tania Bonici Castelli Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi è stato costretto a fare un passo indietro nell'ultimo consiglio comunale per mancanza di numeri rinviando delibere che sarebbero dovute passare senza problemi. Le decisioni da votare riguardavano l'uscita dal consorzio Punto Europa una società partecipata dal comune e la vendita della farmacia comunale due proposte che non hanno trovato però d'accordo la minoranza e parte della maggioranza e che sono state così ritirate e rinviate a novembre. Che riflessione fate come 5 Stelle su questo consiglio comunale che poi alla fine non ha deciso nulla? Una maggioranza lo sbaraglio a questo punto perché non è neanche in grado di portare avanti quello che aveva deciso in precedenza con la propria proposta di delibera quindi una maggioranza che ammette di aver sbagliato che sospende il consiglio dopo la pregiudiziale presentata dal Movimento 5 Stelle e ovviamente capisce di aver preso una cantonata sia per quanto riguarda la farmacia comunale sia per quanto riguarda il consorzio Punto Europa ha ammesso che per quanto riguarda la farmacia il loro intento era solo quello di fare cassa in vista del bilancio per coprire i propri disastri finanziari mentre per quanto riguarda il COPE l'ostacolo tecnico che loro paventavano si è rivelato inesistente quindi anche il parere del segretario comunale è stato superato e adesso si attenderà il pronunciamento della Corte dei Conti ma che si è già pronunciata su un caso simile quindi noi siamo sicuri che non c'è alcun obbligo di uscire dal COPE anzi questo è uno strumento che va utilizzato e migliorato Qual è la posizione di Brucchi in questo momento, la posizione politica? C'è grande caos e anche la posizione di Brucchi ne risente in quanto non è più un sindaco in grado di imporre delle decisioni e di avere una maggioranza compatta e coesa tant'è che appunto nell'unica delibera importante portata ieri in Consiglio Comunale si è avuto questo caos e questo ripensamento quindi un sindaco che non sa più decidere Un brutto segnale che mostra la precarietà politica in cui si muove il primo cittadino Consiglio Comunale animato all'Aquila dalla famosa oramai mozione di un consigliere di maggioranza che chiede lo sgombero dell'asilo occupato di Via Duca degli Abruzzi l'opposizione replica scontro politico pericoloso L'ormai famosa mozione sullo sgombero dell'asilo occupato di Via Duca degli Abruzzi sul piatto del Consiglio Comunale di oggi una mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia Roberto Junior Silveri una mozione che chiede lo sgombero dello stabile che da dopo il sisma si è connotato per aver ospitato diverse associazioni del territorio che non avevano una sede A chi dice che lo stabile era libero da gennaio a causa di problemi sopraggiunti con i nuovi terremoti Silveri replica così Innanzitutto lo stabile non è vuoto lo stabile oggi è inaccessibile all'amministrazione ci sono lucchetti e catene un'altra cosa che dimostra le varie attività fatte lì dentro è il fatto che il contatore, l'utenza, è stata staccata guarda caso soltanto l'altro ieri e poi è bene anche ricordare come segnalano i vicini lì si sono sempre fatte attività anche durante quest'estate Nessun problema politico ideologico dunque dice il capogruppo siamo disposti a parlare e dialogare con le associazioni per quello vogliamo conoscere i nomi dei rappresentanti Nella mozione c'è anche la volontà di andare a individuare i soggetti protagonisti di questa occupazione che molto spesso si nascondono anzi scusate sempre si nascondono dietro delle sigle e delle associazioni ma non sappiamo veramente i nomi di queste persone è bene identificarli chiarire con loro determinati aspetti e aprire un percorso condiviso di partecipazione chiaramente Il consigliere comunale Carla Cimoroni da sempre vicino a queste associazioni giudica gravissima la mozione dal punto di vista politico invece Grottesca ora perché chiedere l'identificazione dei presidenti o dei rappresentanti legali delle associazioni che sono state vicine hanno attraversato l'asilo in questi anni hanno organizzato insieme agli attivisti dell'asilo tante manifestazioni culturali sociali di aggregazione tra quelle mura una sono io non è che bisogna scomodare le forze dell'ordine per identificare dei rappresentanti legali di associazioni che sono assolutamente noti la cosa grave è il contenuto politico il pensare di gestire un bisogno di socialità e di aggregazione soprattutto da parte dei giovani come una questione di ordine pubblico di relegare tutta la fame di spazi sociali che in questa città semplicemente a questione di ordine pubblico questo è veramente pericoloso l'API, l'associazione delle piccole industrie di Teramo attacca violentamente la decisione di attribuire all'Aquila la sede legale della nuova camera di commercio che ha accorpato la provincia terramana e quella aquilana esiste una circolare del ministero che impone si è scelto il territorio dove ci sono più aziende e Teramo ne ha molte di più rispetto all'Aquila l'API, associazione delle piccole industrie di Teramo non ci sta alla decisione di assegnare all'Aquila la sede legale della nuova camera di commercio che ha accorpato gli enti camerali di Teramo e l'Aquila non ci sta perché secondo la circolare del ministero per lo sviluppo economico in caso di accorpamento la sede legale deve essere attribuita al territorio che conta un numero più alto di imprese e in questo caso è Teramo ad averne di più con 42.500 aziende contro le 38.000 dell'Aquilano Sono dati ufficiali pubblicati nel 2015 e nel 2016 c'è un rapporto di oltre il 20% in termini di imprese sul territorio ed è una logica conseguenza che la camera di commercio restasse a terra Perché si è arrivati a questa soluzione? Questo noi l'abbiamo denunciato oramai da diverso tempo bisogna capire quali sono stati gli accordi trasversali all'interno di questo sistema già messo in campo l'anno scorso con il contentino di avere la presidenza molto in mente terramana con una sede secondaria che poi andrà via quindi ci sarà l'ennesimo rubacchio scusate il termine di risorse che stanno sul territorio Nella sostanza noi abbiamo perso questa opportunità bastava semplicemente fare un conteggio ed è chiaro il numerico che c'è che il numero maggior di imprese stanno su questo territorio e ne consegue che la camera di commercio il riferimento doveva restare su questo territorio Potrete fare qualcosa con un ricorso per contrastare questa decisione? Ma non credo che possiamo questa è una semplice associazione di natura imprenditoriale che cerca di stimolare questo meccanismo è una situazione che non sta all'interno della camera di commercio per una volontà ben precisa dell'associazione stessa perché abbiamo ritenuto che quel meccanismo illogico di ripartizioni di sedie e di poltrone non andava bene pensavamo ad altro e queste sono le conseguenze che noi ne stiamo pagando i danni per effetto di una scarsa lungimiranza una scarsa attenzione una volontà di combattere perché la sede all'Aquila quando nella sostanza il maggior numero di imprese stanno sul territorio terramano E allora a Teramo cosa resterebbe? Secondo l'API, priciole una sede secondaria e transitoria un presidente terramano in carica solo per un breve periodo insomma una spogliazione totale della realtà camerale Torniamo all'Aquila senza stipendio da tre mesi una situazione insostenibile per i dipendenti della concessionaria MP Parcheggi che chiedono al Comune un intervento deciso sulla mobilità cittadina Da tre mesi senza stipendio i dipendenti della concessionaria mobilità e parcheggi dell'Aquila parliamo di 20 unità che prima lavoravano grazie ai parcheggi a rasio al terminal di Colle Maggio nessun ammortizzatore sociale per loro è una condizione che non è più accettabile In questo momento sono arretrato le tre mensilità e purtroppo anche dei crediti fiscali perché in questo momento i ragazzi sono degli onesti contribuenti fanno solo i loro doveri fiscali e però non hanno indietro quello che è il loro credito perché l'azienda è in ritardo con i pagamenti la condizione è diventata insostenibile ormai lo è subito dopo il terremoto con rinviso le decisioni se riattivare o non riattivare i parcheggi a rasio in questa città una decisione ovviamente politica da prendere non è accettabile però che si vada avanti con la politica dei rinvii una decisione appresa o la convenzione viene riattivata integralmente oppure si scelgano altre strade i sindacati chiedono una posizione netta all'assessore alla mobilità del comune dell'Aquila Carla Mannetti che ancora non riescono ad affrontare in maniera decisa per trovare una soluzione voi avete già parlato con l'assessore comunale Mannetti di questo? sì ne abbiamo avuto degli approcci informali abbiamo una richiesta di incontro ormai dal 5 di settembre ovviamente le responsabilità partono dal passato però oggi è chiaro che chi è stato scelto ai cittadini per prendere delle decisioni lo debba fare e in maniera veloce ecco voi pensate ad azioni di protesta? beh per ora noi vorremmo provare a trovare una soluzione perché quei ragazzi hanno già passato 9 anni di sofferenze sono dovuti visti ridurre l'orario di lavoro quindi ridurre il loro livello di reddito ora non sappiamo più dove era schiare il fondo del barile di quante persone parliamo? in questo momento di quasi 20 unità le quali sono quasi tutte part time perché da un contratto full time sono dovute scendere a un contratto part time ma insomma oggi è divenuto insostenibile anche quel livello d'orario apriamo la pagina dello sport c'è un nuovo sponsor sul retro delle maglie del Pescara si tratta del gruppo Sarni stamani il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha presentato la partnership che ha durata biennale Presidente oggi l'annuncio di questa partnership importante con il gruppo Sarni accordo biennale Sì abbiamo fatto come abbiamo detto prima in conferenza abbiamo fatto un accordo con il gruppo Sarni un gruppo di respiro nazionale che tutti quanti conosciamo e che ha voluto unire il suo nome a quello del Pescara a noi fa veramente molto piacere è un accordo biennale e quindi siamo soddisfatti di aver anche in questa situazione diciamo di mercato non facilissimo abbiamo trovato anche quest'anno dei partner importanti che ci accompagneranno e ci daranno una mano per sostenere il nostro Pescara per noi era importante qualora ce ne fosse stata la possibilità e fortunatamente c'è stata quella di legarci a un'azienda che potesse essere sì nazionale un'azienda forse sbagliata per il Pescara una società sportiva sì nazionale ma comunque del territorio per cui ci è sembrata la scelta più corretta per cercare di far crescere ancora di più i nostri marchi a livello nazionale con una partecipazione nello sport e in questo caso sport ad alti livelli se vogliamo Manuel Sarni è una collaborazione che è nata poi in poco tempo possiamo dire sicuramente è stata la trattativa è stata molto veloce perché ripeto c'è stata l'intenzione da parte sia nostra che del Presidente di iniziare questa avventura insieme intanto per due anni e per il futuro si vedrà ma sicuramente c'era e un rapporto iniziato già da qualche anno in cui siamo entrati piano piano prima tra gli sponsor sui cartelloni pubblicitari all'interno dello stadio e poi piano piano si è evoluta sulle magliette quindi su una visibilità sicuramente importante e maggiore e a margine della presentazione di questo accordo con Sarni il Presidente Sebastiani ha anche parlato dell'inizio di stagione della squadra in particolare del lavoro di Zeman Zeman non è un ripiego ha detto il patron Biancazzurro siamo soddisfatti del suo lavoro si parla molto delle scelte di Zeman lei anche ha espresso nei giorni scorsi delle perplessità circa ad esempio l'impiego di Brugman è soddisfatto anche della gestione che stava facendo Zeman del gruppo fino a questo punto ma io non ho espresso delle considerazioni sulla posizione di Brugman a me mi è stata fatta una domanda alla quale ho risposto con molta onestà come faccio normalmente mi hanno detto se Brugman poteva giocare play io ho detto che Brugman secondo me può giocare pure in porta quindi ho esagerato un po' perché quando i giocatori sono bravi possono giocare da per tutto il mister siccome è un mister preparato da una persona intelligente questo lo sa e quindi utilizza i giocatori dove servono e quando servono io sono soddisfatto d'altronde c'è qualcuno che in qualche trasmissione ha detto che la scelta del mister è stata un ripiego la scelta di Zeman non è mai un ripiego soprattutto per noi perché quando uno decide di portare Zeman sa che deve lavorare in un certo modo sa che ha bisogno di certi giocatori di certe figure e quindi quando lo prendi vuol dire che non può essere un ripiego probabilmente chi dice questo non sa nemmeno di che cosa parla noi siamo non soddisfatti di più del lavoro che sta facendo il mister sono contento che i ragazzi cominciano a prendere ad assimilare quello che il mister vuole da loro è chiaro che essendo una squadra nuova avendo cambiato tanto essendo partiti anche con un'idea un po' diversa perché noi sapevamo quando il mister dice non era il mercato che volevamo fare non è che vuole buttare all'aria quelli che ha noi siamo partiti con un'idea diversa noi sapevamo che certi giocatori non dovevano rimanere a Pescara ma eravamo altrettanto convinti che se fossero rimasti sarebbero stati importanti perché dire che rimane Zampano e non sei contento vuol dire che non capisci nulla di calcio dire che rimane Benali e non sei contento uguale alla stessa cosa Bruggemann è stessa cosa Bovo è stessa cosa nel momento in cui questi giocatori sono rimasti è chiaro che il mister in partenza ha lavorato con un'idea pensando che magari quei giocatori da un momento all'altro non ce l'hai poi questi giocatori per fortuna sono rimasti adesso lavora con un'altra idea sapendo che ha a che fare con un gruppo di giocatori che potenzialmente possono giocare tutti quanti è chiaro che poi in undici vanno in campo e ogni settimana lui dovrà fare le scelte ma lui fa l'allenatore per questo non è quello che deve fare la società Per quanto riguarda la Serie C nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti per il Teramo dopo la sconfitta di Pordenone per preparare la gara di domenica prossima contro la Fermana ore 14.30 allo stadio Bonolis a tal proposito c'è la designazione arbitrale per Teramo Fermana che è affidata a Fabio Pasciuta della sezione di Agrigento con i due assistenti che saranno Mauro Dell'Oglio di Molfetta e Mattia Politi della sezione di Lecce chiudiamo il TG con un ultimo servizio di sport in particolare di golf e con la conclusione dell'Alps Tour che si è tenuto la scorsa settimana al Miglianico Golf Club con la vittoria di un giovane italiano il vicentino Migliozzi che ha avuto la meglio su due francesi con le buche supplementari di spareggio dopo che il percorso intero si era concluso in parità con 270 colpi il servizio Guido Migliozzi non è una vittoria come le altre per te questa? No è una vittoria speciale è stata la mia prima vittoria da professionista e adesso per il futuro sono molto più carico e non vedo l'ora di ricominciare Playoff quando si vince il playoff devi avere tanto da dare soprattutto tanta testa perché poi la fatica si comincia a far sentire sotto tutti i punti di vista si diciamo che contaci com'è andata perché noi abbiamo testimoniato tutto con le immagini in poche parole ho finito il giro delle 18 buche che ero partito stamattina alle 10 quindi non avevo neanche pranzato ho consegnato lo score e mi hanno detto di andare subito in t di partenza e lì si sentiva la pressione però sono rimasto calmo e ho aspettato fino alla fine il buon colpo e lì ho segnato la vittoria e invece nella quattro giorni qual è stato l'altro momento decisivo in cui hai dovuto superare qualche difficoltà il secondo giro stavo sopra par stavo più uno a tre buche da finire poi ho finito molto bene facendo birdie eagle birdie e mi sono portato a casa un meno tre che è stato un buon risultato per andare in lotta per la vittoria grazie a grazie al mio maestro grazie alla testa grazie allo swing grazie grazie lo si dice è tutto per questa terza edizione del TG6 il nostro notiziario torna domani alle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie a tutti